L'esordio in Coppa Italia del Catania viene archiviato con il classico buona la prima. La partita contro il Coma ha mostrato già un'ottima quadratura tattica dei rossazzurri che di fatto però avevano in campo solo alcuni dei reali titolari. La formazione vista ieri sera al Massimino era infatti piena di comprimari e giocatori che dovrebbero e potrebbero partire a breve, mentre tutti i nuovi acquisti erano in tribuna ed hanno rimandato l'esordio ufficiale in maglia rossazzurra. Quel che spicca già dalla prima uscita, a prescindere da chi è sceso in campo, è però il grande equilibrio che si è notato tra i vari reparti, soprattutto per quel che riguarda la difesa. L'impronta di Sottilschi nota già e questo lascia ben sperare, soprattutto se si pensa che la squadra sarà più forte con tutti i nuovi innesti arrivati, a prescindere dalla categoria nella quale si giocherà. Proprio in tal senso si avvicina allora X, che determinerà l'eventuale conferma della decisione del TFN di accogliere il ricorso del Novara per il riprescaggio in Serie B, riabilitando di fatto anche il Catania. Mercoledì 1 agosto dovrebbe essere il giorno della verità, perché la CAF dovrà stabilire se accogliere l'appello della FIGC e delle tre società che hanno reclamato per la decisione del TFN. Ormai manca pochissimo dunque e Catania spera, come dimostra anche l'entusiasmo determinato dagli abbonamenti, che viaggiano speditamente verso quota 3000, nella speranza che questa settimana regali davvero la Serie B a tutto l'ambiente rossazzurro.